Ma ben spogliatoiati ragazzi, benvenuti in questo nuovo bagno, ci sono video e oggi siamo qui dentro una stanza. Perché? Perché dobbiamo fare un video spiegazione. Un video spiegazione. Ma spiego io sto video. Spiegazione! Ma praticamente che è successo? Che è successo? Non so che è successo. Perché stai compiando il mio quadrino? Perché te lo hai? Che buzzi. Vuole carenza a fare ciò. La buzzi perché andrà. No, esatto. No. Quella che sulle, spiega il sulle. Che sulle c'è oggi? Spiega il buzzi. Allora. Eccole! Con il braccialetto. Non lo so, con il braccialetto. Non lo so. Questi sono i braccialetti. Del Dio. Caraccelate. Oh, addio. Chi sa che? Ma cos'è? Che risponde la mano. Che risponde la mano. Ecco. Come poi? Mani come si senti un po' Ma non sai cosa è che è successo? Non sai cosa è che ha un po' Devo giurare sulla mia vita. Non sono venuto più a prendere le macchinette. Stavo da sola, qui c'è la reali, ci stavano i beni qua fuori, ci abbagliano, ma tanti erano, ma c'è tutto, sento bene, sento bene, ma di sottofondo, sentivo l'angente, porca Dio, porca Dio, ma cos'è la mattina, perché stavo, ah no, come se dicevano i carini, te lo giuro, come se dicevano i carini, quando hanno smesso i desideri, non si sono zittati, regà me lo posso giurare, non so se me lo so immaginato, però è successo, 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 Lì sì, c'ho una fama, ad me, ho una profigezza, perché faccio, poi voglio26, batestherral,只 FIFA, tfv 88, allora, oggi siamo in spiegazioni di nuovo se l'ha spiegato proprio un po' prima lui quindi ve lo spiego meglio io sono a Roma S di nuovo Centocelle a Roma allora se mi fatti quella cosa a te poi ho avuto questo mio nuovo canile e faccio io e ti vuoi indiuso dietro una sbarra e ti vuoi indiuso come fai altri animali? che tozzo tu sei la mia vita altro io non ho tu sei la mia strada la mia verità a me e non ho fatto il secondo di lui RABANOOOOO non è che si fa un bel non mi fa il panino non mi fa il panino fammi il gatto fammi Romeo quando sono piccoli guarda che non è veramente comunque fammi il leone più lontano ci fa tipo leone fronso leone eh fammi il gatto come fai il padre di bambi come fai il padre di bambi? c'è un video c'è un video c'è un video non fa? nooo ma fai rialmazzo wow pezzi di merda che prendi di uccito mi perseguito la vita mi perseguito la vita ma quindi ero talmente primo che domani sono buoni buonissimi sono pieni di noi sono pieni di noi sono pieni di noi ero talmente primo che domani me lo stava giacciando e quindi siamo a Roma mia quella est per me era una frequenza quindi siamo quindi quindi quindici quindici minuti di video inutile orto addio oh io tu non sono mai oh addio è marocchino scusa guarda 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 grazie sono contento vi saluto a tutti perchè sto andando a mangiare guardate i miei amici vabbè quindi anche il crit piacere è mio non lo pare non lo pare che puzza ma che poi dici qualcosa quindi quindi questo video è luglio adesso mi vado a fare un'altra ora e mezza di treno perchè sono venuto qua per fare imprese e vado a cazzo perché sono handicappato però la cosa è che vi saluto i romani e non dico perché saluti romani perchè sono da uno però sennò saluti chi è diciamo saluti autistici saluti e prendi il cazzo oh bella il po il cazzo il cazzo e c'è freddo intanto lo sai che ci sarai comunque dai dai ma non hai iniziato non mi riprendi non mi riprendi non mi riprendi con lo spezzio con lo spezzio con lo spezzio dietro io stavo cos'è oh ti aspetta ti sto ricondendo ti sto ricondendo ma no fermo dai dai è bellato iscrivetevi al canale mi raccomando adesso facciamo la cacca perfetto e poi ecco dio e comunque roma merda ok ragazzi un bacione una comanda e scrivete 30 mi piace 50 voglio che rivedete a 50 mi piace adesso in questo momento con il video di oggi è tutto arriviamo a 50 scarpe 50 scarpini ti senti sopra il telefono e stanno chiamando quindi lasciate un mi piace commentate condividete se non siete ancora iscritti vi dovete scrivere qui sotto in un video molto strano per arrivare a diventare famoso video dal bagno e tudor bene ciao 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 ciao